Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny 2 in questo nuovissimo video news in cui voglio parlarvi della festa delle anime perdute edizione del 2018. Questo perché Vangie finalmente ha presentato ufficialmente questo evento e nei prossimi minuti voglio darvi tutte le informazioni conosciute ad oggi. Innanzitutto partiamo subito dalla durata, inizierà martedì 16 ottobre e terminerà martedì 6 novembre, quindi tre settimane d'evento che come al solito inizierà e terminerà alle ore 19 italiane. Per l'occasione tutta la torre sarà addobbata ma a differenza delle scorse edizioni non sarà presente Eva Levante ad iniziarci con i suoi doni. Il centro di questo evento sarà in un certo senso Amanda Holiday che per tutta la durata dell'evento metterà a disposizione delle taglie giornaliere che ci ricompenseranno con delle anime frammentate. Una nuova valuta limitata a quest'evento che ci servirà non soltanto per ottenere le maschere della festa delle anime perdute ma anche per ottenere il fucile automatico storia dell'orrore introdotto appositamente per quest'occasione. Oltre a ciò saranno presenti anche dei nuovi trionfi e parlando sempre di drop anche da Tess Averis ci saranno delle novità. Come al solito tutta una serie di nuovi oggetti quali navi, astori, spettri, emot e chi più ne ha più ne metta ottenibili negli ingrammi effimeri e gli ingrammi aggiuntivi che al salire di livello verranno droppati insieme a quelli risoluti quindi già come è stato negli ultimi eventi. Ogni level up doppio ingramma uno con gli oggetti classici presenti nel gioco base uno con gli oggetti legati esclusivamente a questo evento e naturalmente questi ingrammi potranno anche essere acquistati ma parliamo di attività ce ne saranno ben due. Innanzitutto ci sarà la foresta infestata molto probabilmente una rivisitazione della foresta infinita almeno concettualmente e sarà una sorta di attività a tempo limitato. Abbiamo 15 minuti di tempo? Dobbiamo spingerci il più in là possibile. Naturalmente più livelli affrontiamo più nemici diventeranno tosti. Non si parla di ricompense però quindi non so se sono previsti dei drop esclusivi o se semplicemente otterremo dei frammenti da spendere per gli oggetti già prima menzionati. Magari sarà soltanto un'attività fino a se stessa per stabilire un proprio record. Questo ancora non si sa. In ogni caso vi si potrà giocare da soli in squadra o affidarsi al matchmaking. La dimensione del gruppo comunque dovrebbe essere di tre giocatori. Non è specificato ma nell'immagine che viene mostrata si vedono soltanto tre guardiani. Quanto alla seconda attività che vi avevo già menzionato a partire dal 30 ottobre quindi l'ultima settimana di questo evento bisognerà risolvere un omicidio. A quanto pare è stato assassinato maestro Yves e quello che dovremmo fare attraverso un'apposita questline sarà scoprire chi è l'artefice del delitto. E francamente a questo giro non ho la minima idea di cosa aspettarmi quindi immagino semplicemente chi vivrà vedrà. Con quest'ultimo punto terminano anche le informazioni rilasciate riguardo all'evento festa delle anime perdute edizione del 2018. Dovesse emergere altro naturalmente sarò pronto a riportarvelo. Dunque ragazzi da parte mia è tutto. Come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento. Vi invito a lasciarmi il vostro feedback e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!